Io mi chiamo Alessandro Grima e sono un attore professionista che si è diplomato in Paolo Grassi nel 2012 ormai. Ho fatto altre esperienze, ho frequentato altri corsi, adesso sono qui davanti a voi, bianco su sfondo bianco, perché sono una persona estremamente intelligente. Volevo dire un'unica cosa su di me forse che mi può rappresentare, che è un titolo di un libro molto famoso, il libro di Pirandello, Uno, Nessuno, Centomila. Ecco, un po' mi ci rivedo io, perché io sono uno, sono Alessandro, ma allo stesso tempo sono anche centomila, perché nel mio lavoro spero di essere centomila persone differenti, ma soprattutto non sono nessuno. E quindi, ci sta? No? Mi ringrazio, ciao!